A Rio de Janeiro due ore di lotta vincente e drammatica. Contro Cuba, l'Italia vince al nono match point e completa un anno magico. In 12 mesi conquista europeo, World Series, Goodwill Games e mondiali. La posizione corretta con Roberto Macciarelli che va a battere. 13-7, 2-7-1 per gli azzurri. Andersap, Edengard, la bellissima difesa di Macciarelli. Anastasi, Murato, ma c'è Giorgi che rimedia in difesa. Andiamo a vedere, Giorgi contro il muro 2, è fuori, ma è stata toccata, toccata la spiaggiatta di Andrea Giorgi. C'è Roberto Macciarelli, i dischi del pubblico, è il grande momento della pallofuola italiana. C'è un attimo di contestazione, c'è un attimo di contestazione. L'arbitro ascegna una contesa, probabilmente era buona questa battuta. L'arbitro ascegna una contesa, sta facendo un po' la legge di compensazione. Andiamo a vedere ancora a Macciarelli, l'importante è rimanere concentrati. Edengard, lo schema di Dozze, la ripresa di Bernardi e Parciattopoli. Arriva Dozze e siamo i campioni d'Europa! Siamo i campioni d'Europa! Non era mai successo! E non era l'Iovo, l'Italia, campione d'Europa! Non era mai raccaduto! Tornato il battuto del capitano, Andrea Lucchetta, ricezione. Diago, palla per la seconda linea, Lucchetta ripende! Del bagger! Stopoli, il palleggiatore può solo appoggiare. Diago, proviamo col muro! Resta in campo cubano, il pallone non cade! Lottiamo ancora a rete! Lucchetta, Paolo, Berardi! Berardi! Campioni del mondo! Sul tetto del mondo! E' il grande momento! Sul tetto del mondo! 16 a 14! 16 a 14! Grande Italia! Timmons! L'attacco di Zorzi! Lo vedete dalla zona 4, il suo pallonetto murato da Gardini! Stovertlik per Zorzi ancora! La difesa di Chirali e poi di Masciarelli! Splendita azione di gioco! E' un'attenzione! Momento fondamentale di questo incontro! Batte Masciarelli, Bertoli, Dvorak, Zorzi! La difesa di Karch Chirali! Bullo per Timmons! Simbanger, contraattacco Mediolanum, Stovertlik, Dvorak, secondo tempo di Stovertlik, muro di Gardini, Lucchetta, Dvorak, zona 4 per Zorzi! Grande difesa di Chirali! Masciarelli in raddoppio! Poi Timmons, nuovo contraattacco Mediolanum, Bertoli, Dvorak, secondo tempo di Stovertlik, murato! Attenzione, vince il messaggero di Ravenna a questo set con il punteggio di 15 a 9! Di avere per la sesta volta, ecco la battuta di Chirali, bracci per Stork! Carlão, il muro tocca, recupera Chirali! Bullo per Timmons! Non chiude Timmons! Passani! Stork chiama Renan! Pallone non è passato! Il Ravenna è campione d'Italia! 14 a 13! Tornate in campo Mauri per il banesto, abbatte Margusti, riceve Montanaro, Mauricio, Tandi! Il muro passivo del messaggero, la difesa di Timmons, che poi viene che va di causa da Bullo! La difesa di Montanaro, la giocata per Tandi, attenzione! Il muro di contenimento di Gardini, Bullo per Chirali! Furo fuori, il messaggero di Ravenna! È campione del mondo e giustamente, credo io, ha firmato la partita, Carl Chirali! Ora c'è l'applauso del pubblico paulista, che dimostra ora la sua sportività! 3 a 1 per il messaggero di Ravenna, comprensibilissimo l'entusiasmo della squadra italiana! 3 a 1 per i Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.